Per non perderti nessun contenuto su questo canale ti invito a premere la campanella per ricevere ogni giorno i feed e a passare da Instagram per contenuti sempre esclusivi. Buona visione! Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo secondo episodio della Xtreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo ottenuto il nostro starter, ossia il buon change, direttamente da Pokémon Insurgence e abbiamo catturato, con non poche difficoltà, il nostro hippie di tipo spettro drago, così senza un minimo di motivo e con delle statistiche ragguardevoli, 8 di attacco. Detto ciò, l'ho allenato fino al livello 7 e si allena molto velocemente ragazzi, si evolve a livello 27. Io vi dico ragazzi, per chi ovviamente non conosce la Crazy Lock, che evolvendosi il Pokémon, oltre a cambiare il suo aspetto o la sua evoluzione, quindi Skiplov non si evolverebbe in Jumplov, ma potrebbe evolversi in lui. Cambiano anche le statistiche, quindi io prego, prego la Madonna. Detto ciò, direi di proseguire, come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace, proviamo a raggiungere i 250 like, so che ce la possiamo fanculo fare e proseguiamo. Un momento, sì, ok, devo andare a consegnare la mappa città al mio grande amico Tony F, quindi... se ti levi, per piacere, che lui deve orientarsi tra i ghetti e quindi deve per forza andare lì, cioè la sua troia, la mia troia lo vuole morto, come si suol dire. Ok, perfetto, stagione inverno, ci piace questa cosa, ci piace. Se gli sguardi di due allenatori si incrociano, scatta la sfida, perfetto. Allora ragazzi, iniziamo con Hippie, vediamo un po' che cosa è in grado di fare. Io vorrei, per i primi cinque episodi, qua me la sto gufando, provare a non perdere Pokémon. E questo allenatore ha solo un Pokémon, cioè ha solo Ziss. Cioè perché è solo Ziss, quindi ha solo Ziss, cioè una. Ricordate la storia dei 250 like? Ecco, vi autorizzo a mettere un dislike. Fatelo. Cioè no, non fatelo, che poi quando dico, la parte divertente di tutto ciò, è che quando dico queste cose, c'è la gente che ci crede. Ma raga, no! Sto scherzando, dovete sostenerlo, il canale Breeder, perfetto, che è un rattata. La sagra dei Pokémon di merda qua abbiamo, raga. Io sto tendendo di fare clickbait con il leggendario, quindi se mi fai vedere, se mi esci un leggendario, è meglio. Comunque vedete, raga, che Hippie, cioè, comunque se la cava per il momento. Sto aspettando, prego che rega fino al livello 27 più che altro. Tra l'altro, noi qua, ragazzi, ora, ci tocca fare la cattura. A filo dente, perfetto, è questo, i miei denti storti. Allora, visto che comunque Hippie ha delle mosse che sforano i confini del cosmo, direi di mettere davanti Change per la cattura. Quindi, vediamo un attimo chi ci viene fuori. Ti prego, ma no. Ma figa, ma tra tutti i Pokémon del microcosmo questo, doveva venirmi fuori. Tra tutti i Pokémon. Ma, manchi. Questo non so neanche come chiamarlo, è pure una scimmia femmina. Come ti chiamo, zio? Come ti chiamo? Uno? Guarda. Il catch rate di Dio. Il catch rate di Dio. Poi, come mi spiegate come lo indebolisco questo Pokémon? Me lo spiegate come lo indebolisco? Uno, due, tre. Ti prego. Oh, grazie. Manchi preso. Non so assolutamente come chiamarlo. Lo chiamo Pokémon Swimpanzé Terra Acciaio. Ok. Ha l'impronta forma di una fionda. Interessante. Swimpanzé Terra Acciaio. Lo chiamo... Lo chiamo... I... I... Vediamo se c'è... Iron... Che poi dopo, evolvendosi, questi qua perdono il significato dei loro soprannomi. Lo chiamiamo Iron... Manchi. Ripeto, potete insultarmi se volete. Ne avete tutto il diritto, avreste il dovere morale e politico di insultarmi. Iron Man chi? Cioè... Cioè chi? Chi è? Chi è questo supereroe? Manchi? Questo episodio andrà in malora, me lo sento. Comunque, allora direi di... A, andarci a curare velocemente. B, di prendere altre Poké Ball. C, di guardare un attimo il nostro supereroe. Hashtag... Lui è raga il supereroe proprio, cioè... Oltre... Oltre a John Frog, il supereroe è Iron Manchi. Oh Gesù, uccidetemi. Iron Manchi confirmed, raga. Allora, un po' di Poké Ball per piacere che dobbiamo saziare la nostra fame di catture. E prendiamo anche qualche pozione perché altrimenti ci spanano le chiappe. Detto ciò, controlliamo un attimo questo Manchi. Vediamo un attimo di cosa ci siamo impossessati. Allora, vediamo un po' il nostro Manchi. Che poi tipo l'ho chiamato Iron Man ed è femmina. Non ci ho pensato, dettagli. Morso con 105 di potenza, raga. Non è un morso, è proprio una magnata, è una cena questa. Beh... 150 di potenza, peccata. Ma di cosa... Oddio, ma è fortissimo quest'uomo. È fortissimo quest'uomo. Mamma mia, ma che potenza arcana. Ma raga, ma l'arroganza di Iron Manchi che non sta né in cielo né in terra. Comunque per il prossimo episodio vedrò di allenarlo. Per ora non lo rischio perché, raga, sembra essere forte questo. Poi controllerò a che livello si evolve, ovviamente. Direi di proseguire. Mamma mia, raga, con beccata 150 di potenza. Proprio io ce lo vedo. Una beccata, proprio gli scava nelle budella al Pokémon avversario per fare 150 di danno. Cristo Dio. Ok, bulletto mio, affrontami. Il mio spirito combattivo ribolle. Il mio patrat è incredibile. Ok, interessante. Il tuo patrat, che ovviamente è un Vibrava. Non la faccio la battuta su Vibrava. Potete tenerlo aperto, il video. State tranquilli, non la faccio per il momento. Non è ancora arrivato il trash così trash. Beh... Stare attenti a beccata. Urge stare attenti a beccata. Giorno di paga. Cosa mi ha fatto? 2 PS. Interessante. Muori. Ok, perfetto. Beccata, in questo gioco è vagamente potente. Bisogna stare attenti. Urge attenzione. Be careful, man. Ok, perfetto. Allora, quel montanaro lì per ora non ci affronta. Quella roba lì è raggiungibile solo di inverno. Cosa che non è vera perché è già inverno. Quindi non so come sia raggiungibile. Lo scopriremo mai perché probabilmente non tornerò mai in questo luogo. Il catarro, grazie. Ok, perfetto. Allora, adesso... Sta zona qua io non me la ricordo benissimo. In teoria dovrebbe affrontarmi il rivale. Non gradisco il fatto che mi affronti il rivale in queste condizioni. Quindi prima direi di darmi... Cioè di auto consegnarmi una bella pozione su change. Che non si sa mai. Detto ciò, se non sbaglio, proseguendo di qua dovrebbe arrivare il buon F. Eccoci qua. Ciao Tony. Ah, sono felice di vederti qui. Vuol dire che vuoi allenarti seriamente. E allora vediamo i tuoi progetti. Gang, 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 gang. Beh, più o meno raga, le rime sono quelle. Ok, perfetto. Creepy contro Tony F. Vediamo un po' cosa succede. Questa serie qua sta cadendo nel trash. Lo so. E Light 4? Oh, ma... Ah, ok. Ma c'hai solo un Pokémon, zio. A che livello? 8. Eh, l'ho preso in culo un pochino però. Allora, con calma adesso. Se sei di tipo acciaio, io posso andare di faggobomba con una... Aia, questo fa male, mi sa. Non è molto efficace. Ah, giusto, è vero. Le mosse sono randomizzate. Eh... Non puoi subire danno super efficace se le mosse sono randomizzate. Zio, stai fermo. Ok, ragazzi. Questo Homastar sarà un problema per l'intera serie. Questo Homastar sarà un problema per l'intera fottuta serie. Inondazione. No, non sono una tipa che squirta. Grazie. Perfetto, non sono neanche uno squirtle. Niente male. Vedo che riflettuto su come tirare fuori i money dai Pokémon. Eh, vedendo i tuoi progressi nella lotta, ho capito che sei una persona su cui si può contare. A proposito, cosa cercavi da queste parti? Eh, il magazine. Creepy consegna il magazine a Tony F. La mia droia non smette mai di stupirmi. Spero di non farla preoccupare troppo, però. Comunque, grazie. Siamo appena partiti e già hai trovato il mondo di aiutarmi. Perfetto, raga. Sappiate che i dialoghi di Tony F saranno tutti così. Ok, perfetto. Allora, vabbiamo a questo bellissimo dialogo in cui... Ragazzi, spoiler. Dobbiamo andare a salvare un Herdier che si è perso. Tony F si incazza perché l'Herdier non ha i money. E quindi deve andare a recuperarlo nella fattoria. Incontreremo lì un particolare personaggio. Se non avete ancora giocato a Pokémon Bianco 2. Non esagero con gli spoiler. Sì, 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 ciao. Bella lì. È stato un piacere. Sì, sì, sei incazzato. Allora, c'ha il pisello girato. Ok. L'ultima canzone non è andata benissimo. È un po' preso male. Adesso è iniziato questo viaggio. Perché ha bisogno di fare una discografia su Unima. Perfetto. Ole, direi che possiamo proseguire, signori. Dopo questa perla di saggezza. Ciao. Allora, perfetto. Qua abbiamo dei Marip. Qualcosa mi dice che nell'erba alta non ci trovo i Marip. Qualcosa mi dice che c'hai la madre. Farina. Vediamo se sei più coraggiosa. Se sei più coraggiosa la mia squadra o la tua. Dipende da quello che hai tu. Robin. Signori, l'eroe delle leggende. Robin Pupa. Reggi. Porca putt... Ah, guarda! Guarda come deve iniziare sta serie. Guarda come deve iniziare sta serie. Con i brutti colpi deve iniziare sta serie. Uccidetemi. Adesso, grazie. Muori. Oh, grazie. Grazie, divina provvidenza. Grazie, divina provvidenza. Reshiram. Pensa a te, Reshiram. Mi ha già ucciso. E io... Sei forte! Nei primi cinque episodi non vorrei perdere Pokémon. Bella lì, cazzo. Bella lì. Good here, proprio. Che palle. Allora, fermi. Pozione. Perché qua mi aprono. Qua mi aprono. Non ce n'è. E c'è il... Watonda cosa mi deve fare? Ok, niente. Perfetto. Allora, proviamo con un pirolancio pregando che non sia di tipo spettro. Perché se di tipo spettro veramente quitto la serie. Eh, vabbè. Ovviamente non ho tenuto in conto quell'infame lì là sopra che mi guarda sempre di cattivo occhio. Ha fatto di nuovo un critical. Io l'ho visto che ha fatto di nuovo un critical. Ha fatto di nuovo un critical. Dio, devi attaccare, caro c'è. E che già voce. Grazie. Ok, perfetto. La serie è iniziata nel peggiore dei modi. Perso contro un Reshiram. Ovviamente chi ho perso, se non il Pokémon che si evolve? L'antica tradizione si ripete. La maledizione delle evoluzioni torna. Qua curiamoci, raga. Però ovviamente il Death Count ci ha privato. Mi fai... Ah, ok, perfetto. Raga, non... Sono ancora abituato ai Insurgenze. Non so più aprire il menu. Ah, raga, raga, raga. Bella la vita, no? Uno spettacolo. Comunque il mio intento non era tanto affrontare Cotal Pupa. Era piuttosto fare la mia cattura. Prendendo anche un rapido artigli. Detto ciò, dai, proviamo a fare sta cattura. Dai, io ci spero. Figuriamoci se si può... Cioè, se è un Pokémon che si può evolvere. Allora. Tuono Pugno ha 55 di potenza. Ok, perfetto, sì. Ottimo. Tuono Pugno, ho già capito che lo utilizzerò per indebolire la gente ritirata. Ti uccido la vita. Ah, ma tanto io c'ho un Tuono Pugno speciale. Bella posta, allora. Shanna, continuo a far ritirata, zio, che sicuramente ci hai capito tutto della vita. Ah, ah, ahia. Ah, ahia. Allora, se paralizzalo e io che cosa ci spero a fare? Allora, catturiamolo, raga, che ci serve un altro Pokémon at this point. Prendilo, please. Uno. Oh, Gesù. Per piacere, te lo chiedo avec le cœur. Avec le cœur. Uno. Due. Tre. Sì, sì, sì. Ole. Wimsicott. Se lo chiamo Wimsicrude mi uccidete, sì. Pokémon Spiffero. Ok, perfetto. Allora, non so come chiamarlo questo. Cotone, cotone, non faccio black humor, no, nel caso ve lo stesse chiedendo. Lo chiamo, lo chiamo, come posso chiamarlo? Prankster come abilità. Prankster, non lo so, non so assolutamente come chiamarlo. Wimsicott, Wimsicott, Pokémon Erba, Folletto, Fairy. Non c'è ancora il Folletto però qua. Lo chiamo, lo chiamo, lo chiamo Cosmo perché è tipo Folletto quindi, anche se l'ho chiamato già girarci un tempo Cosmo però, però facciamo, facciamo Cosmo, sì, non ho idee, non ho davvero idee. Potrei chiamarlo anche, no, lo chiamiamo, chiamiamo Africa per il cotone. No, orribile, questa vedrò di vi parla. Lo chiamo, non lo so, non so come chiamarlo. Lo chiamo, non so come chiamarlo. Lo chiamo Lincoln, dai, Lincoln ci sta perché è tipo c'erano gli schiavi in America che lavoravano il cotone e Lincoln, che spero si scriva Lincoln, e Lincoln li ha liberati, questo è un po' meno Black Humor, dai, perfetto. Ok, allora, reso conto di 15 minuti di video, abbiamo fatto schifo, abbiamo catturato il nostro secondo, il nostro, abbiamo perso il nostro secondo membro e incredibilmente abbiamo fatto schifo. Allora, vediamo un attimo come è conciato il nostro bellissimo Lincoln. Ti prego, ti prego, terra con le occhero, ok. Eh, no, abilità, burla. Ok, no, le abilità non le ho randomizzate, abbattimento, assistente, ritirata, tuono shock con 85 di precisione. Mi piace tuono shock di tipo ghiaccio, raga. Ok, niente di particolare, però non ho visto le statistiche che sono importanti. Meglio non utilizzarlo. Davvero. Meglio non utilizzarlo. Ho subito qualcosa di paragonabile a un arresto cardiaco appena l'ho visto. Ricapitolando. A mosse speciali e a 5 di attacco speciale. Il che è molto divertente. Ma Cristo. Mi odia? O mi odia? Fatemi capire, perché io non riesco a capirla sta cosa. Fango bomba, vediamo di mandarlo giù dai, di tipo terra. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Change, questo episodio si baserà unicamente sulle tue capacità. Per il prossimo episodio vedrò di allenare un pochino Mankey. E Wimsicott, raga, non lo so. Sarei tendente per un no, perché raga, so che se lo mando in campo finisce male, cioè muore subito. Non può far nulla. Cioè, proverò ad allenarlo. Magari impara qualche mossa figa, però è... È probabilmente no, cioè nel senso... Allora, perfetto, grazie Tony. Sì, sì, adesso andiamo a vedere se troviamo la gang da questa parte. Vai tra. Ok, perfetto. Un neturbino. Interessante. Classe allenatore introdotta in quinta generazione dall'utilità apparentemente ignifuga. Che non vuol dire niente, però... Fate finta che io abbia detto qualcosa di colto e di intelligente. Piro lancio, ma tanto la mossa tu sei anatomizzata, quindi sicuramente avrà effetto. Mamma mia, change, raga, che potenza quest'uomo! Che potenza quest'uomo! E voi potrete tranquillamente dire... Ma Gripi non è un uomo! Intanto ho sciotto i ferro, sì. E voi non lo sapete fare. Intanto più livelli di voi. Grazie per l'antiparalisi. Serviva prima, eh? Ma grazie per l'antiparalisi. Non ti vede anche tu che sia strano? Sì, è strano che un po' come sparisca così da solo a caso. Oppure semplicemente vuole la natura, sai? Una creatura, anche lui vuole la natura. Buongiorno. Buongiorno anche a lei. Certo che non ne hai di sfortuna a incontrarmi sulla tua strada. Sì, no, infatti. Perché poi, chiaramente, uno con un pochina è un ostacolo che per un drapione è sicuramente ostico. Fu così che mi fece ghigliottina. Ma, ehi, non può colpirmi con ghigliottina. E comunque non l'ha fatta perché morto prima c'è un pirolancio che c'ha Cristo Dio 105 di potenza. C-cin-cinno. Perfetto. Vedi di... Morire. Mamma mia, raga, li shot a tutti. Che potenza a quest'uomo. Avrò anche perso il buon hippie. Ma change ne porta l'onore nel cuore. Letta sta stronzata. Possiamo proseguire. Vediamo che altri Pokémon c'erano. Eeeh. Questo non era male. Si sarebbe voluto al 30, ma questo non era male. Ad esempio. Madonna, raga, che cattura di merda che sto trovando. Cristo Dio. Proprio ci avete presente quelle cose brutte. Brutte, brutte, orribili proprio. Pietra lieve, perfetto. Interessante. Proseguiamo. Allora, siamo a 19 minuti. Kai! Proprio famoso verso dei cani. No, perché voi camminate per strada e vi fanno Kai! Un classico della... Dell'animazione russa. Classico dell'animazione russa. Dimmi che mi fai fuggire. Cristo Dio. Solo perché sei veloce come mia zia dopo che le dico che mi sono fidanzato. Non vuol dire che tu abbia il diritto di non farmi camminare via. Anche perché poi muori. Male, tra l'altro. Ok, perfetto, ragazzi. Ecco quell'uomo. La pietra stante in una crazy lock è la cosa più inutile che mi sia mai stata data. Ma questo, ad esempio, io non potevo trovarlo. Ok, c'ha il catch rate di Gesù in croce. Però, dai. Non può collaborare la crazy lock per una volta. Non è... Ah, questa è zoofilia. Non puoi farlo. Ma questo guaito. Allora l'hai trovato, grazie al cielo. Tu resta qui che io vado a chiamare proprietario. Vai, Donny, vai, vai, vai. Chiamala proprietario, fatti venire a prendere. Ci mancava solo quest'altra seccatura. Guarda che io sono un membro del team Plasma. Quando ci siamo noi, i globuli rossi smettono di piangere per il terrore. Ma tu lo conosci o no, ti in Plasma? Dai, diciamo di sì, perché siamo colti. Esatto, siamo l'organizzazione che due anni fa voleva conquistare Unima. Sì, mentre tu parli, io bevo, perché... Mi sta morendo tutto, vai. La cosa avete provato a conquistare il mondo? Ah, ok. Oh, aspetta. Mi ha dato una MT. Raga, potrebbe essere utilissima sta cosa. Se solo Wimsicott potesse imparare Pestone. E se Pestone fosse una mossa fisica, potremmo aver recuperato un Pokémon. Io ve lo dico. Poi, fate voi. Ragazzi, iniziate ad accendere i rosari. Accendere i rosari? No, che è molto blasfema come cosa. Volante, fisica. Sì! Sì! Oh, sì! Grazie! Ah, ma anche abbattimento e fisica. No, yeah! Che bella la vita. Ritolgo ritirata, così. Out of nowhere, proprio. Allora, ragazzi. Io non so. Ho scappato il rutto. Chiedo, venia al pubblico. Uh, Vespiquin. Dicevo. Non so se proseguire. Perché in teoria ci sarebbero due battaglie da fare nella... Nella casetta allenamenti di Nardo, no? Però stavo pensando che forse potrebbero essere un filino rischiose solo con Change. Delle battaglie così importanti. E quindi potrei stoppare, invece. Allenarmi i Pokémon e poi affrontarle con più calma. Visto che tanto poi dovrei tornare indietro per fare la palestra. Quindi, comunque, mi allenerei con calma e poi sarei già pronto per la palestra. Quindi io direi che per questo secondo episodio, appena riusciamo ad uscircene da questo luogo che puzza di cacca di Marip, dimmi che questa è la strada giusta, circa. Potevo essere... Questo è un pene. È decisamente un pene. Allora, curami i Pokémon per piacere. Sì, siamo stati noi. Grazie, grazie. Apprezzo. Lui potrebbe darmi qualcosa per aver trovato gli air, dir vero? Ah no, ok, mi dice di andare da Nardo. Ma noi, ragazzi, da Nardo ci andremo nel prossimo episodio. Qui, quindi, se lui sì, sì, ok. Io spero comunque, ragazzi, che questo video vi sia piaciuto. Se così vi invito, come solito, a lasciare un bel mi piace, un commento di iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Nel prossimo episodio andremo a battere la palestra e andremo ad affrontare una prova particolare a casa di Nardo. Quindi, mi raccomando, rimanete sintonizzati. Premete perciò la campanella per ricevere i feed e passate dai social per comunque rimanere sempre aggiornati su varie attività e per ricevere sempre contenuti esclusivi. Inoltre, non so se l'ho già detto, ma rispondete alla domanda del giorno. E niente, ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video. Grazie a tutti.